La richiesta avanzata dal capogruppo consigliare del Partito Democratico Giacomo Curizzi di avviare un'indagine interna per accertare come siano sparite 30 delibere di debiti fuori bilancio è legittima, ma bisogna andare oltre, investendo del grave episodio anche la magistratura. Lo dice Massimiliano Falvo, già coordinatore cittadino del Popolo della Libertà e responsabile di Forza Italia dei Gelesi nel mondo. Come mai la procura non indaga su un fatto così grave? Io non me lo chiedo soltanto da responsabile di un partito quale Forza Italia, ma anche da privato cittadino, che esempio diamo noi alla cittadinanza nel momento in cui parliamo di debiti fuori bilancio e vengono a mancare 30 delibere, non si trovano. Il fatto è inquietante, oltre che eccessivamente grave, perché in questa città purtroppo questa amministrazione ha un limite, mette sempre tutto a tacere. Così è successo per il Casa Groverdi, ancora oggi attendiamo risposte che non abbiamo, così è successo per il fatto della Tecra, dei rifiuti e il resto sta succedendo così per i debiti fuori bilancio. L'esponente di Forza Italia interviene anche sulle royalties. La città deve essere inondata di denaro, appunto quello proveniente dalle royalties, per aiutare la classe economica di questa città a risollevarsi, perché se noi blocchiamo i consumi non avremo mai il risollevamento di gela e continueremo sempre a vivere in questa condizione, che ripeto ha toccato ormai punte che non sono più concepibili, perché ripeto la città è in serie difficoltà. Massimiliano Falvo dice la sua anche sulla vicenda aerei. In qualsiasi città italiana che vive in uno stato democratico la salute dei cittadini deve essere messa sempre al primo posto, il lavoro deve essere contingente a quello che è l'aspetto della salute. Come mai noi sorvoliamo questo aspetto così importante? Eppure lo vediamo anche dai TG nazionali, che gela la capitale delle malformazioni. È possibile che questo non ci pone all'interno di noi cittadini, non classe politica, un interrogativo? Come possiamo non evitare che tutto ciò avvenga? Se continuiamo a subire è come se vivessimo in uno stato del feudalesimo e siamo nel 2014, non possiamo concepire il fatto che noi dobbiamo essere trattati sempre come sudditi. Il petrolio appartiene a Gera e quindi l'Eni deve rispettare questa città, ma non attraverso bonifiche che millanta solamente. Devono essere reali e concrete, perché altrimenti, ripeto, noi continueremo a vivere questa condizione per molti anni ancora e non so fino a che punto più è concepibile.